buonasera ragazzi allora dunque oggi vorrei presentare un nuovo prodotto della dun yusuri un prodotto di alta qualità che è una l'ultima novità per anno 2024 anche a forza anche per 2025 vediamo il prossimo anno quel che allora ho ricevuto questo prodotto circa dieci anni fa in japon direttamente è un prodotto che ha un omissore di peso anche 19 e 3.5 un prodotto secondo me è un prodotto che vale tanto per male di attrezze o in realtà immaginare allora che cosa di nuovo di questo prodotto l'hanno fatto un bel colpo di due e uno più e molto sono più piccola sono molto più piccola prima interno hanno messo uno nuovo da qua che da due sono due sfere hanno aggiunto una sfera più un magnetico molto forte quando voi lanciate quella sfera si sposta verso indietro si vede una bella foto e va a molto molto distanza lontano anche per vento per mare allora io vorrei dire che l'ultimo dieci giorni che ho provato direi che funziona molto bene l'ho fatto un bel cattura di i calamari o seppia perché che ho molto molto bene i colori che io ho testato a questo con le quali funzionano molto bene di mattina o di sera ok prima di successore o tramonto di notte ho provato con questa verde che totalmente funzionano molto molto bene è una luminosità di luce vede poi si vede anche con una quasi con voi tutta allora e anche un po più profondo di notte anche questo sono dei colori un po di fucsia un po rosa un po nero e un po oro che funzionano molto 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 bene dopo se magari poco accatturata c'è questo colore che fa un po di giallo un po di di losa un po di vela un po di blu ecco no ok un colore che va per tutti i tipi di acqua ok allora direi che è un prodotto ottimo e finire se lì ho provato sono molto molto contento per dire anche di questo PMB che hanno fatto molto molto bene che è molto più piccoli di antimarca e di modello in italia penso che arrivano adesso se non sbaglio quel che l'ho sentito dall'importatorio cominciante che viene da lui direi verso giugno o in autunno di quest'anno qua ok no io li consiglio a tutti perché è un prodotto in ottimo ottima qualità e un altro che vorrei far vedere forse qua scrive qua indica fino a 70 metri di lancia io ho provato che il vento fosse molto 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 bene allora il prezzo il negativo di sannoio noio sbagliarmi che viene circa tra 15 euro non è che è preso abbastanza alta ma anche basso però dare la carattere di cattura calamari 100% ok no io direi che prodotto consigliato e dopo allora attiresse puoi trovare già da un pre ordinare o pre notazione di 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 avere questo modello qua e penso che l'unica delle cose più interessate è che l'importazione d'un mi pare se non sbaglio in via Bacchiavelli ok l'unica delle cose più interessate ragazzi buona captura cronali e buona salve a tutti ciao ciao